Ciao a tutti, beati voi quando vi odieranno, prima di iniziare iscriviti al canale per avere il tuo video personalizzato lascia un commentino qui sotto e seguimi anche sui social, su facebook e su instagram, trovi i link qui sotto in descrizione allora, beati voi quando vi odieranno, leggiamo prima questa poesia e poi l'analizziamo insieme perché è molto importante per farsi forza e per capire che in realtà quando qualcuno ingiustamente ci dà contro, ci prende in giro, ci scredita in realtà ci sta facendo un favore, quindi quando la scena non ti applaude, quando non senti risposta alle tue fatiche quando credi sia inutile continuare a lottare, non smettere, continua a combattere, dimostra quanto tu sia più forte del resto solo allora arriveranno gli applausi, i più importanti, quelli della vita e innanzitutto secondo me, quando ci sono delle persone che magari anche ingiustamente ci screditano in realtà ci stanno spingendo ad essere sempre meglio, quindi a studiare di più, a realizzare cose sempre più grandi sempre grandiose, a migliorare la nostra, che ne so, la nostra conoscenza di una lingua a migliorare il nostro aspetto, a migliorare la nostra casa e quindi in realtà non state facendo che incoraggiarci in un modo diverso dal solito per essere migliori trovare la positività in tutto quello che cercate e soprattutto non date troppo peso a queste persone prendete solamente la cosa costruttiva che può darvi e lasciate correre perché, non so voi, quando una persona è in linea con se stessa è difficile che poi riesca a trovare il tempo da dedicare a qualcun altro quando invece una persona non sa che cosa fare della propria vita, delle proprie ambizioni, dei propri sogni è lì che va a confrontarsi con quelli degli altri mentre se questa persona è troppo impegnata a rincorrere i propri obiettivi personali e lavorativi eccetera, non ha tempo per stare a guardare cosa fanno gli altri se non le cose positive, ma le cose negative degli altri che ce ne facciamo per i nostri sogni, niente e quindi questo è tutto, ti mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!